Una mamma ama il suo figlio e loro amano i suoi tifosi, io penso che Sampdoria non è una squadra solo professionale. Sampdoria è anche una squadra che mette dentro anche tutto l'animo e tutto il corpo che si può fare. Boscov, lei è un uomo di mondo, soprattutto un uomo di mondo del calcio. Rispetto agli altri scudetti che ha vinto nella sua carriera, avevo ordine a Real Madrid, che senso ha questo? Ma questo scudetto è immitigabile, perché penso che questa coreografia che abbiamo visto oggi pomeriggio, io penso che si possono fare solo tifosi di Sampdoria, io ho mai visto così un spettacolo, così. Dal primo fino all'ultimo minuto cantavano, davano sempre carico per giocatori, poi penso anche Tifo era super corretto. Questo per me deve essere anche un grande complimento, perché tutti insieme abbiamo lavorato e cinque anni abbiamo vinto tanti.